Grazie. Ringrazio Rosolino per la bellezza. Ma certamente, caro Sindaco, caro Presidente della Regione, caro Graziano, dirigenti delle ferrovie, oggi questa inaugurazione è veramente carica di simboli. Quindi, il primo simbolo che a me viene in mente è che con questa inaugurazione, in un certo senso, noi diamo il messaggio di un Paese che rialza la testa, perché un grande Paese è orgoglioso delle sue grandi opere. È una cosa talmente banale che noi dobbiamo avere il coraggio di ripeterla ad alta voce. Un grande Paese ha bisogno di grandi opere ed è orgoglioso delle sue grandi opere quando nascono e quando può inaugurarle. Non possiamo essere l'unico tra i grandi Paesi che non considera un gesto architettonico, un'opera che ha tutte le utilità di cui si è parlato oggi, di cui hanno parlato le persone che hanno parlato prima di me, come una conquista, come un passo avanti, come una cosa che lascerà il segno, come un'eredità che lasciamo al territorio e alle nostre comunità. Quindi a chi dice che questa è un'opera troppo grande, in questi casi si usa spesso l'aggettivo faraonica, come se le opere dei faraoni fossero una cosa, certo sono costate dal punto di vista sociale, noi per fortuna siamo arrivati a regole sociali diverse da quelle che si usavano alcune migliaia di anni fa, però opere faraoniche significa certamente lasciare il segno di grandi civiltà e l'Italia deve avere l'orgoglio anche con questi grandi gesti architettonici che sono alcune delle nostre stazioni e non solo delle nostre stazioni, l'orgoglio di lasciare questi segni, di lasciare queste eredità. Sappiamo che non sono mancati i ritardi nel corso del tempo che ha portato alla realizzazione che oggi inauguriamo, ma sappiamo anche che negli ultimi due o tre anni c'è stata una straordinaria accelerazione. Ho sentito addirittura qualcuno dire che abbiamo fatto troppo presto, ma vi rendete conto che si può dire che si fa troppo presto nel momento in cui si apre una stazione ferroviaria e come ha appena raccordato adesso Graziano la stazione da domenica è operativa con un numero molto consistente di treni e crescerà, ma troppo presto cosa? Pensiamo semmai alle difficoltà che abbiamo avuto in passato, alla fatica che chi ci ha lavorato ha fatto per superarle e al miracolo che chi in questi due o tre anni ha accelerato il ritmo ha compiuto. Il miracolo fatto dai responsabili di ferrovie, dagli ingegneri, dal gruppo Astaldi e innanzitutto il miracolo fatto, qui ce n'è una rappresentanza da voi che ci avete lavorato, dal lavoro italiano, lavoro italiano che si fa onore con delle cose meravigliose in giro per il mondo e deve avere il diritto, questo onore, di esercitarlo anche sul territorio nazionale. Non è possibile che i nostri grandi gruppi di infrastrutture e ve lo assicuro io che da ministro degli esteri ho avuto moltissimo a che fare con le realizzazioni che fanno in giro per il mondo, siano capaci di fare delle cose spettacolari in giro per il mondo e abbiano difficoltà e scarso riconoscimento quando le fanno in Italia. E quindi grazie di averle realizzate, soprattutto a voi che ci avete lavorato, oltre che agli imprenditori che hanno la responsabilità delle aziende, grazie a voi di averla fatta in Italia, in Campania e ad Afragola. Perché questo è il merito che nei prossimi anni vi verrà riconosciuto e hai fatto bene, Mimmo, a decidere di dedicare la piazza antistante a Zahadid che oggi non può essere con noi ma che certamente sarebbe orgogliosa, come siamo orgogliosi noi, di questa realizzazione. Perché poi questa meravigliosa combinazione tra capacità artistica, capacità organizzativa, capacità manifatturiera che viene mossa oggi dai grandi studi di architettura è una delle cose belle della nostra contemporaneità. Noi la apprezziamo in giro per il mondo e oggi la possiamo apprezzare grazie a questa stazione ferroviaria qui ad Afragola. Tanti simboli, tanti motivi di soddisfazione, anche però, e lo dico ai colleghi di governo, ai parlamentari, ai responsabili politici delle istituzioni regionali e locali, oltre a tanti motivi di soddisfazione, anche tante sfide per l'immediato futuro. Perché inaugurando oggi la stazione di Afragola, noi in un certo senso mettiamo sul tavolo anche due grandi promesse. E sappiamo che non sono solo promesse campate in aria, perché corrispondono a dei patti che abbiamo firmato con la Regione Campania, a degli investimenti che il gruppo Ferrovie ha in cantiere, a degli impegni presi dal governo. Però sono delle promesse che dobbiamo mantenere. E sono delle promesse che fanno riferimento a due dei nodi più complicati del sistema del nostro trasporto in Italia. Il primo è quello del rapporto tra l'alta velocità e la rete del trasporto locale. La sfida ad Afragola l'abbiamo vista anche nei modellini dove viaggiano i due treni ad alta velocità che si alternano e poi due treni più piccoli che devono essere i collegamenti con il sistema di trasporto locale, con la circunvesuviana, con il sistema delle metropolitane di Napoli, con la rete anche di trasporto su gomma che cercheremo di riconnettere alla stazione di Afragola. Quindi è un impegno che riguarda certo le grandi direttrici dell'alta velocità, ma riguarda il sistema di trasporto locale, i pendolari, le famiglie dalle quali dipende oggi un miglioramento della qualità del trasporto locale. Questa è la prima grande promessa di Afragola. Non solo l'alta velocità, ma l'alta velocità che si sposa con il territorio. E l'altra grande promessa è, come ricordava Mazzoncini, come ricordava Graziano, è la promessa del mezzogiorno. Noi siamo ammirati nel mondo per l'alta velocità, per la sua qualità, per efficienza. Ma abbiamo, come classe di governo e come classi dirigenti in questo Paese, anche la responsabilità di riconoscere che questa ammirazione è territorialmente squilibrata. E che se noi vogliamo continuare a parlare, come facciamo, di una grande opportunità oggi per lo sviluppo del Sud, questa grande opportunità non può che basarsi anche sul riequilibrio infrastrutturale e quindi sul fatto, di nuovo, di una promessa di Afragola di essere quella trincea avanzata del nostro sistema ferroviario verso il potenziamento, potenziamento verso Bari, potenziamento verso la Calabria e la Sicilia, il tanto che abbiamo ancora da fare in termini di investimenti pubblici per garantire una equità territoriale di cui il mezzogiorno ha ogni diritto. È un impegno che dobbiamo prendere qui, ad Afragola, perché oggi abbiamo le condizioni almeno di partenza. Mazzoncini diceva che questa è la nostra trincea avanzata. Ma non è la caserma a Bastiani, cioè non è una trincea solitaria, una cattedrale nel deserto, è una trincea avanzata nel senso che è un pezzo di un sistema in movimento. E l'impegno del Governo deve essere quello di dare a questo movimento continuità, stabilità e sicurezza. Io non sono certo che ci siano dei collegamenti tra i fenomeni che abbiamo visto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi di rigurgito e di violenza in questi territori e questa grande opera. E comunque non spetta al Presidente del Consiglio stabilire questi eventuali collegamenti. Non ne sono certo che ci sia. Sono certo tuttavia, come è stato detto già dal Presidente De Luca, dal Sindaco Tuccillo. Sono certo del fatto che, oltre alle promesse, lo Stato debba lanciare oggi da qui un altro messaggio, che è il messaggio che la sicurezza sarà il nostro impegno prioritario in questa zona e in questo territorio. Noi non possiamo sprecare l'occasione che ci viene offerta da questa meravigliosa infrastruttura architettonica, lasciandola in abbandono. Ha fatto bene prima il nostro campione di nuoto a dire che quelle stazioni belle forse non le toccano. E speriamo che resti così. Ma noi come rappresentanti del Governo e dello Stato, qui c'è il Prefetto, ci sono i rappresentanti delle diverse forze dell'ordine, dobbiamo dire molto chiaramente che lo Stato qui sarà presente in forze e garantirà la sicurezza di questo territorio. Se arriva a sviluppo non è detto che debba arrivare violenza e corruzione. Deve succedere esattamente il contrario, arriva a sviluppo, arriva la possibilità di rilancio per questo territorio, non di ritornare indietro a momenti di violenza che noi non vogliamo subire. E infine, Afragola è parte di un messaggio più generale, lo ricordava adesso Graziano, che i governi in questi anni che si sono succeduti hanno cercato di dare e che io ho avuto l'onore anche di sancire qualche giorno fa con la firma di quel DPCM, che vuol dire decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei 47 miliardi di investimenti in 15 anni. Conosciamo la difficoltà della distanza tra queste cifre e la realizzazione concreta di questi investimenti. Chi fa l'ingegnere, chi fa l'amministratore locale, chi fa il sindaco, sa che individuare le risorse, appostare le risorse, è solo il primo passo. E molto spesso nel nostro sistema è il primo passo di un percorso a ostacoli, difficile, in cui la realizzazione di un'opera finanziata non è più semplice del reperimento del finanziamento di quell'opera. E anche per questo io voglio qui pubblicamente ringraziare le ferrovie dello Stato che garantiscono alle nostre istituzioni investimenti certi e in quantità molto rilevanti, non solo ad Afragola ma in tutto il territorio nazionale. Vi ringraziamo perché è un esempio del fatto che con il lavoro, con la qualità, si possono realizzare queste infrastrutture. Abbiamo appostato 47 miliardi in 15 anni, 20-21 miliardi di questi sono dedicati alle infrastrutture, molti sono dedicati allo sviluppo delle ferrovie in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo quindi una grande occasione. Se non la sprechiamo credo che daremo attraverso questo lato, il lato degli investimenti pubblici, su cui negli anni del dopo crisi l'Italia ha faticato ad andare avanti, diciamo la verità, avremo la possibilità di dare un contributo a quella ripresa che sia pure con una velocità molto inferiore a quella che vorremmo. Si sta manifestando. Anche oggi l'Istituto di Statistica ci ha confermato dei dati positivi, incoraggianti sul fatto che il Paese si muove, che l'economia cresce a ritmi maggiori di quelli che noi stessi avevamo previsto e queste sono occasioni che un Paese non può permettersi di sprecare. Quindi impegno, impegno di cui questa stazione sarà uno degli esempi più belli e certamente sarà un esempio che io potrò ricordare della mia esperienza di Presidente del Consiglio. Abbiamo spostato a sud la frontiera della nostra alta velocità, abbiamo messo un hub, un nodo di un sistema di trasporto che integra alta velocità e trasporto locale, abbiamo soprattutto lasciato in eredità a questo territorio uno splendido gesto architettonico. Possiamo esserne orgogliosi. Viva Afragola e viva l'Italia.